Ciao ragazzi bentornati su top prodotti recensioni prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Oggi andremo a vedere le migliori sedie da spiaggia comode da portare sempre con voi. In quinta posizione troviamo la sedia da spiaggia pieghevole Song Mix, con struttura bassa e schienale alto, bracciolo imbottito per un sostegno confortevole, telaio incrociato in tubi d'acciaio con parete da un millimetro per impieghi gravosi fornisce un supporto affidabile, schienale e sedile della sedia sono in tessuto Oxford rinforzato a doppio strato per una maggiore resistenza e comodità, link in descrizione. In quarta posizione troviamo la sedia pieghevole da spiaggia King Camp, disponibile sia singola sia doppia, schienale basso in rete con poggiatesta per una maggiore comodità, realizzata con materiali morbidi e traspiranti per il giusto comfort, bracciolo avvolto in schiuma morbido e confortevole, con porta bicchieri per tenere la tua bevanda, pieghevole e portatile, comoda e leggera adatta ad ogni situazione. In terza posizione troviamo la sedia da spiaggia pieghevole Solenni, disponibile in due modelli diversi con misure differenti. Sedia pieghevole con quattro posizioni, si trasforma in un comodo lettino per rilassarvi a mare. Realizzata in tubo rotondo di alluminio per essere dotata della giusta resistenza, tessuto textiline ad asciugatura rapida ideale per spiaggia o piscina, consente la traspirazione, link in descrizione. In seconda posizione troviamo la sedia da spiaggia portatile Song Mix, schina le reclinabile a 180 gradi per distendervi e godervi la giornata a mare, con comodo cuscino poggia testa per un maggiore comfort. Spiaggina leggera comoda da trasportare realizzata con materiali resistenti e durevoli, dotata di due tasche, una termica per il cibo e una per telefonini e altri oggetti vari. In prima posizione troviamo il set da due spiaggine X1, disponibili in grigio o in beige, dotate di morbido cuscino poggia testa con braccioli ergonomici e confortevoli, più larghi in corrispondenza del gomito per una maggiore comodità. Si può tranquillamente distendere diventando un comodo lettino per prendere il sole in spiaggia per rilassarsi e abbronzarsi, trovate il link in descrizione. Bene ragazzi anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutti i link degli articoli in descrizione e se siete interessati, grazie per aver visto tutto il video ci vediamo al prossimo.